Ah hi people of youtube, welcome back to a new episode of new pokemon snap, a parte gli scherzi benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con l'ottenimento di queste due nuove aree, ma dobbiamo trovare il pokemon lumina di entrambe le zone. Allora, siccome qua non ho idea di quale potrebbe essere il pokemon lumina, o meglio sono tre aree divise, vorrei iniziare da volcanoes e ovviamente dobbiamo andarci di notte. E stavo notando la mappa, la mappa in questo caso si divide in due zone ben separate, di solito quando si divide il percorso comunque ritorna tutte alla stessa zona finale. In questo caso, dobbiamo vedere in quelle delle due si trova il pokemon lumina, o comunque il fiore che poi ce lo sbloccherà. Ok, in teoria qui il fiore lumina si è letteralmente illuminato, il che vuol dire che forse ce lo sblocca, forse, speriamo. Speriamo vada bene questa volta la fotografia. Dunque, Kangaskhan, non mi aspettavo niente di che. Lo faccio solo per i punti. Scorupi con questa abbiamo completato un'altra sezione. Cacnea. Argento, ma non mi aspettavo niente di eccezionale. Silicobra, anche qui. Non mi aspettavo di farla migliore. Perfetto. Poi Onix, anche qui. Non mi aspetto niente di eccezionale, ma in realtà l'abbiamo fatta molto meglio della prima. Wow, incredibile. Quando non te l'aspetti sto gioco ti sorprende costantemente. L'Icarrock. Addirittura meglio della prima, non male. Questa poteva starci. Mandibuzz. Ok, ok, un po' ci ho sperato. Poi, vediamo Minior. Non mi aspettavo niente di eccezionale, ma perché sono piccoli è difficile prenderlo. Trapich, tre stelle. Oro, perfetto. E Sandriu, tre stelle. Bronzo. Sandriu, un po' altalenante. E infine, il Cristalfiore. Bello, bello, tutto illuminato. Il Professore, tutto contento. Siamo contenti anche noi. Vediamo, non saliamo di livello, ovviamente. Una foto bella dopo l'altra. Dovrò cercare di tenere le mie ricerche al passo con i tuoi straordinari progressi. Vediamo quanto prendiamo oggi. Hai ottenuto il Cristalfiore di Volcas. A proposito, ora che abbiamo i dati sul Cristalfiore ho delle notizie da darti e ti assicuro che ti piaceranno finalmente la sfera lumina di questa zona. Vediamo, vediamo, vediamo cosa mi dici. Forza. Bentornato. Ho appena finito di analizzare i dati sul fenomeno lumina di Volcas. Ma veniamo subito al dunque. Ho qualcosa per te. È una sfera lumina di Volcas. Ovviamente. Lascio a te il compito di sfruttarla per avanzare nelle nostre ricerche. Ovviamente. Gli altri sono dei pivelli, ovviamente. E abbiamo ottenuto la sfera. Dunque, dovrei aver fatto la missione per Trapich, tra l'altro. Sembra che da queste parti si nasconde un Trapich. Credi poterlo localizzare? È quello che ho fotografato, però, a quanto pare. Forse dovevo farla mentre era ancora nascosto. Abbiamo ottenuto la sfera lumina. Direi che un altro giro ci tocca, nella speranza, di ottenere il Pokémon lumina di questa zona. Dunque, questo giro. Va che bella. Dicevo, a questo giro, aspetta, aspetta. Ci facciamo un po' di fotografie e facciamo tutto il giro mentre vediamo i Pokémon lumina. Lumina di questa zona. Anche perché, in realtà, c'è una zona di questo deserto che mi incuriosiva. Cavolo. Ecco fatto. Dicevo, c'è una zona di questo deserto che mi incuriosiva, ovvero la zona in cui c'era il... C'era... Come cavolo si chiama? Il tornado di sabbia qua in mezzo. Vorrei vedere... Oh! Ah, cavolo, non ho fatto in tempo a prenderlo. Dicevo, volevo fare in tempo... Esatto. A lanciarlo qui per vedere... Se succede qualcosa. Beh, qualcosa è successo. Si sono schiantati... I piccoli meteoriti. Eccolo. È ancora chiuso, quello. Ma che figo, sta facendo una roba. Non so che cosa abbia fatto, però... Carino. Vabbè, mi aspettavo qualcosina di più, onestamente. Però... Sempre qualcosa, dai. D'accordo. Quindi, abbiamo altri crystal fiore... Oltre questa zona, noi. O quello lì, intanto, mi chiedo se farà qualcosa nelle prossime aree. Vediamo l'Icarrock... Illuminato. Mi aspettavo qualcosa di un po' più... Eh? Girati. Eh, dai. È un po' tutto verdino adesso. Ah. Ui. Il Magikarp è vero. Mi dimentico sempre che nel... Nell'acqua c'è Magikarp. Sì, sì. Ciao anche a te. Ciao anche a te. Allora. Mandibats. Dov'è? Eccolo lì. Ecco fatto. L'abbiamo disturbato. Un po' mi dispiace, eh. Ecco fatto. E ora l'abbiamo liberato. Speriamo che la missione... Ohi. Vai via. La missione me l'abbia... Comunque sbloccata. Questa qui di aver fotografato il trapice. Ma che palle. Lasciala in pace quel povero... Sandryu. Ecco fatto. Fotografato. Vediamo. In teoria... Esatto. Sarà... Un po'... Complesso prenderlo. Ah no. Basta. L'abbiamo già preso. Quindi... Vuol dire che non succede nient'altro. Vuol dire che non succede nient'altro in questa zona. se non appunto fotografare i vari fiori. Mi pare un po'... Un po' strano, eh. Mi pare... Che è successo? Mi pare un po' strano... Che sia così semplice. Girati. Ecco fatto. Oh no! Si è vista la palla davanti alla fotografia. Andate a mangiare. Forza che vi do. Ma che figo! Se colpisci... Ma che bello! Se li colpisci con la sfera illumina, si illuminano. Che bello! Questo sì che ha un bel effetto. Guarda lì che ne arriva uno. Preso. Capum! Vediamo se... Eh, la vedo difficile riuscirli a prendere. Sono... Sono tanto piccoli, eh, questi. Sono davvero tanto piccoli. Difficilmente. Riusciremo a catturarne uno con una palla. Però bello. L'effetto della... Della ne... Della... Sì, della neve. Delle stelline così mi piace moltissimo. Molto bello. Molto, molto bello. Più che altro mi chiedo... Se siamo riusciti o meno a fare qualcosa col... Col Pokémon Lumina. Perché la prima volta con Meganium si è sbloccato in automatico. Il che... Mi fa pensare che adesso in realtà... Si sbloccherà facendo determinate azioni. Mmm. E più di... Di colpire i fiori... Altre azioni non me ne vengono in mente. Comunque abbiamo ottenuto Trapiche della missione. E abbiamo ottenuto anche... Minior a tre stelle. Ma anche a una stella che questa qui è bellina. Dunque. Kangaskhan l'abbiamo fatto solo per i punti. Ovviamente era meglio la prima. Trapiche per la missione. Ecco fatto. Grazie. Poi Scorupi. Non mi aspettavo nulla di eccezionale. Cacnea. Non mi aspetto niente di che. Ovviamente. Silicobra. Non mi aspettavo niente. Poi Onyx. Questa qui non ce l'avevamo. Argento. Peccato. Minior. Con una stella. Minior. Davvero fa schifo come punteggio. Ma perché è piccola? Difficile da prendere. Questa non mi aspetto niente. Ah. Addirittura. Onestamente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. E Mandy. Buzz anche qua. Non mi aspettavo niente eccezionale. Sandrio. Non mi aspetto niente. Addirittura. Cioè. Avevamo fatto più punti con queste in alcune categorie. Ma davvero? E infine. Torniamo indietro. Non saliamo di livello ovviamente. Oh. A proposito. Visto che la ricerca procede speditamente. Ho una comunicazione da farti. Credo che ti risulterà molto gradita. Ma te ne parlerò quando avrai finito di sistemare le foto. D'accordo grande capo. Torniamo al campo. Dunque. Che cos'hai da dirmi? Bene. Direi di inizia alla riunione. Prof. Scommetto che stai per dirci dove andiamo questa volta. Sei incontenibile come al solito. Esatto. Abbiamo una nuova destinazione. E allora dai. Dicci qual è. Va bene. Va bene. La nostra prossima meta sarà un vulcano. Uh. Un vulcano. Pazzesco. Ma non sarà pericoloso? Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ho già provveduto a potenziare la new one. Ma ci saranno pokemon in un posto simile? Ovviamente. Questo sarete voi a scoprirlo. Io non vado a buttarmi in un vulcano. Ci penso all'andare i ragazzini ovviamente. Dunque. Nuova zona sbloccata. Non male. Ma non abbiamo ottenuto il pokemon lumina. A meno che. Il suddetto pokemon lumina. Non si trovi in questa zona. Mmm. E a meno che non me l'abbia spiegato. In realtà nei primi episodi. Forse esiste un pokemon lumina per ogni isola. Mmm. Il che mi fa chiedere se ci sia anche qui. Però qui. Non c'è di notte. C'è solo di giorno. Questa. Si può fare di notte. No. Neanche questa. Magari l'oceano dovremmo sbloccarlo. Quindi andiamo un attimo per ordie. Torniamo alla giungla. Andiamoci di notte. Vediamo. Qui c'è un cristalfiore. Succede qualcosa? Apparentemente non è successo nulla. Però è vero. Lì c'era lo swampert l'altra volta. Non penso di riuscire a prenderlo da qua. Esatto. È troppo coperto. O comunque non riusciamo a farlo uscire. Non riusciamo a farlo uscire perché neanche con la ninna nanna. Anzi con la musica che sveglia i pokemon. Non si è svegliato. Ad esempio. Qua c'era il cristalfiore che illuminava tutto l'albero. Che poverini. Svegliamo tutti quanti i pokemon di quella zona però. Aspetta. La fotografia era davvero bella. Oh. I Lady Han. Belli quelli. Non abbiamo tante fotografie a loro. Soprattutto una in cui mangiano. Dove? Abbiamo da sbloccare qualcosa. Eccolo lì. Analisi. Sembra che sia possibile passare attraverso la cascata. Quindi è una zona nuova. Speriamo. Uh. Lifion. Ah. Continua a fuggire. Lifion è molto diffidente. Però è rimasto vicino al cristalfiore illuminato. Forse stavolta riusciamo a fotografarlo per davvero. Ecco fatto. Ma che bello che sei. Oh oh. Ti adoro. Per quanto la gente te ne dica. Sei una delle mie evolution preferite. Scusami non volevo colpirti. Volevo darti da mangiare. Cavolo. Poverino. Comunque speriamo. Dicevo speriamo che ci faccia entrare nella cascata a questo punto. Guarda lì là che se la riposano quei due. Dunque. Speriamo che la foto di Lifion gli piaccia al prof. Speriamo di aver sbloccato qualcosa allora. Allora. Morelul. Niente di eccezionale. Lifion. Dai. Se non mi dai esatto il cristallo per questa voglio dire. Bello Lifion. Lyopard. Carina ma mi aspettavo qualcosina di più dai. Ladian. Qualcosina. Perfetto. Nuovo record. Ovviamente. Poi Magikarp. Non mi aspettavo niente. Swampert. È la prima di una sola stella. Doro tra l'altro. Incredibile. Tucannon. Perfetto. Poi vediamo Vuper. Tre stelle. Eh. Argento. Cristalfiore. Già ce l'avevamo. E infine anche l'antica rovine. Già ce l'avevamo. Ecco fatto. D'accordo. Invece che andare nella zona nuova. Che molto probabilmente. Per sbloccare altre zone adesso. Dobbiamo ogni volta fare le zone nuove. Voglio. Voglio controllare per l'ultima volta. Il fondare di lenti. Le vedere. Come mi ha detto il professore. Se troviamo un cristalfiore. Anche da queste parti. Perfetto. Eccoci qua sotto. Mentre un peliper. Oh. Che bello. E' andato nel fondale. Alla ricerca di cibo. Tra l'altro. In una zona come questa. Dove lo troveremo? Un cristalfiore. Bella domanda. Perché oggettivamente. Qua ci sono i coralli. Magari esiste il cristal corallo qui. Che ne dici gioco? Mi darai qualche indizio? Mi farai vedere. Ecco qui. Per bene dove si trovano tutte quante le cose che mi servono in questa zona. Ad esempio. Quella zona lì. Ah è un credi lì. Un pokemon fossile che giustamente non è tanto comune vedere in giro. Bello. Fermo. Smettila di muoverti. Ehi. Fermoli. Devo passare prima io. Penso a te sto maleducato. Ehi. Qui. Dai. Ah tra l'altro è la prima volta che lo vedo in un modello intero. Ma ce ne sono altri. Si confonde con le... Con le alghe. Bello che l'abbiano... Ma... Ha cercato per caso di mangiare il pesce? Bello che cerchino di mimetizzarlo così. Nella natura diciamo. Ma... Quello là sta dormendo. Ma dai. Bello. Bello. Che di solito è raro vedere un pokemon fossile. Nella natura diciamo. Visto appunto la loro... Natura... Di pokemon fossili. Quello cos'è? Ah è un Magikarp. C'è di nuovo l'Octillery? No. Questa volta... Ma dai. Ma che stronzo quel whale mare. Vai via. Lascia in pace tutta la gente che sia pollo a Yali. Guardalo là che carino. Eh le farei anche io quelle foto. Eh le sai fare le foto. Lo so lo so. Tu no invece. Vediamo. Ehi. C'è per caso... Un pokemon lumina da queste parti? Oh fermo. Stai litigando con un quillfish tu? Stanno litigando. Ma quel whale mare qua è... È antipatico. Mamma mia. Tra l'altro... Ecco appunto c'è... Vediamo se riesco... A farlo avvicinare. No. Se ne va. Ma porca miseria. Vabbè almeno l'abbiamo fotografato. Dove è andato? Ah ce ne sono due. Ma... Si stanno sparando. Ma pensa te. Dai questa è bella. Questa era molto vicina. Vediamo se... Vediamo se riesco a prenderne una mentre sta per sparare. Girati. Ah. Andato dall'altra parte. Mannaggia. Comunque... Continuo a non vedere... A meno che non sia... Nelle zone più profonde a questo punto. Visto che... Comunque è tutto illuminato ancora dalla luce solare. Ripeto a meno che... Non sia in queste zone più profonde. Però non... Non vedo nulla io. A meno che... Eccolo lì. E però... Eh... Però non è illuminato. Non so se me l'ha contata. Non so se me l'ha contata. Perché non era... Bella questa. Non era illuminata. Mannaggia. Però non c'è una zona di notte qui. In tutta la zona qua della spiaggia non c'è una zona di notte. Quindi non sono sicuro del cristalfiore a questo punto. Vabbè. Abbiamo fatto comunque delle fotografie a roba nuova quindi. Ad esempio. Credili. Luminio mentre dorme. Non penso avremo molti punti. Però abbiamo il cristalfiore che... Non è illuminato. Non me la conta. Oh. Pensavo che questi qua che si lanciavano i getti d'acqua avessero più punti. Mannaggia. Peccato. L'abbiamo visto il cristalfiore ma non me l'ha contato. Peccato. A meno che... La vedo difficile e ci sblocca la zona di notte. Sarebbe bello ma non ci conto neanche troppo onestamente. Perché se no me l'avrebbe già sbloccata l'altra volta. Me l'avrebbe già sbloccata l'altra volta. Eppure non è stata così. Va bene. Credili. Vediamo. È un po' tanto vicina. Non so se mi do tanti punti. Ok. Pensavo argento io. Questa non mi aspettavo nulla ovviamente. Whalmer. Oro. Perfetto. Whilfish. Oro. Non male. Crow. Questo qua. Il crostaccio che non so pronunciare. Oro. Cristallo. Perfetto. Mantine. Carina era questa però non me l'ha contata molto. Tentacru. Anche questa diamante. Ed è molto più vicina. Bella. Questa mi è piaciuta. Tentacru comunque è un ottimo pokemon. Molto sottovalutato. Con i dati che ricaverò potrò sviluppare la sfera lumina. Speriamo. Capo. Quindi signori. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito si mette seguito. Se volete dirmi qualcosa. Sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Noi ci vediamo al prossimo episodio.